Cosa abbiamo fatto e cosa faremo? Verrebbe da dire più che cosa avremmo fatto. Il convegno organizzato da D'Alfonso nella sala consigliare gremita di Palazzo di Città in realtà svela un progetto che mostra dettagli lucidi, quasi come se dovesse diventare operativo nel brevissimo tempo. E non mancano i riferimenti all'inchiesta che mette insieme droga e appalti e che ha travolto il Comune di Pescara. Costruiremo la grande Pescara senza scommettere sulla grande cocaina, e non è un modo di dire. E' di una gravità inaudita. Più grave di questo, c'è la tratta dei bambini. Vogliamo che nasca una formazione universitaria che riguardi l'intelligenza artificiale. Non ce n'è una a disposizione, così come vorremmo che tutte le imprese che scelgono di operare da qui possano contare su 4.0, che significa innovazione e ricerca defiscalizzata, azzerata degli oneri amministrativi e burocratici. Per fare questo c'è bisogno di una grande alleanza. C'è bisogno di fiducia, di speranza, di futuro, che è l'esatto contrario della maschera che abbiamo visto in questi mesi. Pescara non può avere una maschera, anche se è fatta di farina. A ragionare sul futuro di Pescara, l'architetto Enzo Siviero, progettista del Ponte del Mare e del Ponte Flaiano, ma anche Armando Mancini, ex assessore ai lavori pubblici. Una presenza che, ricorda D'Alfonso, la logica corretta dei conferimenti di ruolo. Il sindaco non poteva essere assolutamente trisi. Il direttore generale non poteva essere delle onibus. Il comandante dei vigili urbani non poteva essere carugno. Adesso si tratta di cogliere tutte le opportunità del PNRR, di fare in modo che nasca una città-progetto, secondo l'intuizione di Costantini e degli altri che ci hanno creduto dal primo momento, mettendo insieme Pescara, Spoltore e Montesilvano e tutto quello che si può dispiegare ulteriormente. Noi abbiamo bisogno di un progetto di fusione che determini un di più da questa città verso tutti quelli che sceglieranno di venirci a vivere. E dopo la prima scelta dei pescaresi 20 anni fa, rimarcato da Alfonso, quando sono stato eletto e l'interruzione giudiziaria è arrivato il tempo di ripartire per fare di Pescara una città veramente grande.